Siamo ad Acquamorta con Francesco Borrelli, consigliere regionale che tutti conoscono, a cui abbiamo espresso anche la nostra solidarietà per i fatti di Napoli che purtroppo l'hanno visto vittima di un'aggressione. Allora Francesco, tu sei qui a Montediproce prima per godere il bel paesaggio e il mare e poi per appoggiare Peppe Pugliese nella campagna elettorale. Sì, io mancavo da un po' di tempo a Montediproce e devo dire che l'ho trovata molto migliorata. Allora, voglio precisare subito che non potrei mai sostenere l'altro candidato sindaco per un motivo molto semplice, al di là della conoscenza e del fatto che Peppe lo conosco quando tanti anni fa aveva la tessera dei Verdi e militavamo assieme nello stesso movimento politico, ma lo conosco perché è una persona seria e corretta, ma l'altro non lo potrei mai sostenere perché è stato protagonista di una vicenda in cui io ho messo tutto me stesso, aveva vietato di dare da mangiare ai randaggi nella curvone di Montediproce. Domenico, è chiaro che i randaggi possono essere un problema e così via, ma affamare degli animali è un atto che non posso accettare. Prova ne è che perse il ricorso al TAR contro le associazioni animaliste. Però al di là dei cani randaggi, che poi mi sembra che Peppe ha risolto come problema, perché ovviamente è un problema che va affrontato e risolto, io vorrei farvi notare che io sono estasiato. Cioè, quando venni l'altra volta era un delirio di macchine, disorganizzazione, monnezza. Oggi trovo un lungomare bellissimo. Finalmente si comincia a risolvere il problema dell'isolotto di San Martino. Ovviamente è una responsabilità diffusa e complessa anche dal punto di vista giudiziario. Vedo la salvaguardia, e qua ci prendiamo un po' di merito pure noi della regione, dei gozzi e delle imbarcazioni in legno che sono da salvaguardare e da proteggere. E mi domando, com'è possibile che ci ha pensato Peppe e non una persona che al di là del ruolo istituzionale ha lavorato tutta la vita dentro la regione? Cioè, uno sta tutta la vita dentro la regione, non come consigliere, ma come dipendente, ovviamente nessuno mette in dubbio come è arrivato lì. Ma il tema è, utilizzalo per portare cose buone sul territorio, fai cose straordinarie, trasforma Monte di Procida in un gioiellino. E' diventato un gioiellino grazie a Peppe, che stoicamente, e alla sua maggioranza, ai suoi assessori, al suo staff, ha realizzato veramente delle cose belle, la raccolta differenziata oltre l'80%, si può fare il modello, io sosterrò qualsiasi sindaco che porta la raccolta differenziata a numeri superiori a quelli che sono anche la media regionale, che comunque abbiamo portato al 54%. Cinque anni fa, in regione Campania, la raccolta differenziata era stata portata al 29%, il dato più basso d'Italia, più basso d'Italia, mentre oggi è sopra il 54% la prima regione del sud Italia e sopra anche la Liguria e la Toscana. E si può fare anche in la provincia di Napoli, sono tanti comuni, non solo Monte di Procida a dire la verità, ma Monte di Procida ha superato l'80%, ha superato l'80% ed è pulitissima. E poi guardate questa spiaggia, pulita ogni giorno, sistemata, con il distanziamento sociale, con le persone che possono venire o a mettere l'ombrellone proprio o a affittarlo a prezzi politici. Ragazzi, questo è il modello amministrativo, al di là della mia amicizia con Peppe, va votato chi è capace e chi ci mette l'anima sul territorio. E poi, se volete dare pure un voto forte in regione contro l'illegalità per l'ambiente e per le persone per bene, seri e competenti, ci sta pure Europa Verde. Ma passo subito la parola a Peppe, oramai sono tornato a diventare il giornalista, che poi è la mia professione, perché penso che lui abbia veramente dei meriti importanti e che vada riconfermato con determinazione. Grazie Francesco, sono parole che mi emozionano particolarmente, perché conosco Francesco da tanti anni, ma soprattutto tutti noi lo conosciamo e lo apprezziamo per l'opera incessante che fa a favore della legalità, a tutela della nostra città, a tutela della regione Campania, quindi gli siamo profondamente grati. E sentire queste parole da una persona così esigente, così autorevole, mi emoziona, perché certifico un lavoro fatto sul territorio, fatto col cuore, fatto da tutta la mia squadra, che per acqua morta si è spesa tantissimo, e quindi siamo orgogliosi. L'obiettivo per la raccolta differenziata, caro Francesco, è al 90%. Noi vogliamo essere una best practice a livello regionale, ma anche a livello di tutto il sud Italia, e vogliamo sperimentare anche innovazione nella raccolta differenziata. Ne parleremo, sono sicuro che torneremo a lavorare insieme, gomito a gomito, perché la gente ci tiene a te e soprattutto tiene tanto a quello che stai facendo. Grazie. E allora, se posso fare un ultimo appello per gli abitanti di Monte di Procida, alle elezioni di domenica e lunedì, mi raccomando, barrate con determinazione il sindaco pugliese, e se volete dare un bello schiaffone a cialtroni, delinquenti, e dare una mano alla campagna migliore, mettete una X su Europa Verde, e se volete scrivete anche Borrelli. Grazie. 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 Grazie.